Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida che richiede di potenziare un'arma a Borgo Bislacco. La sfida è della settimana 5, quindi per adesso non è ancora disponibile. Tutto quello che dovete fare è raccogliere dei materiali e un'arma, ovviamente, e potenziarla. Il mio consiglio è quello di giocare in rissa squadre, perché come potete vedere avete 150 di materiale a disposizione per ogni tipo fin da subito. Quindi se raccogliete un'arma non comune potete farla diventare rara subito e quindi completerete la sfida. Ripeto, questa sfida non è ancora disponibile, arriverà con la settimana 5, quindi ve la sto mostrando in anteprima. Non appena sarà disponibile saprete già cosa fare e dove andare. Quindi, ripeto, Borgo Bislacco, qui praticamente, dove ho collocato il segnalino, qui, Borgo Bislacco. Una volta che avete raggiunto questa località vi basterà raccogliere un'arma non comune e potenziarla. Nulla di più semplice. Qui ci sono anche già gli altri giocatori. Quindi dovete raggiungere Borgo Bislacco, prendere un'arma comune, non comune, una qualsiasi arma e potenziarla qui. Vi mostro il punto preciso qui. E il gioco è fatto.